Siamo con il dottor Vincenzo Mallamaci, presidente dell'associazione Ti Porto in Africa, che ha deciso di lanciare un appello alle aziende caseare della Piana del Sele per aiutare i poveri della Mensa San Francesco d'Assisi di Salerno. Grazie. La Mensa San Francesco d'Assisi di Salerno somministra 120 pasti al giorno ai poveri che lì accedono e ci sono grosse difficoltà per coprire questi 120 pasti. Abbiamo avuto un incontro con loro come associazione ed è nata questa iniziativa. Mi sono rivolto con una missiva ai dieci caseifici del territorio di Capaccio Pestum, bussando alle porte del loro cuore, citando un po' quella che era una delle tante frasi meravigliose di Madre Teresa di Calcutta, che diceva io posso fare quello che tu non fai, tu puoi fare quello che io non riesco a fare, però insieme possiamo fare grandi cose. Ecco, bussato alle porte del cuore di questi caseifici, perché che cosa ho chiesto? Ho chiesto un dono, quattro mozzarella al giorno, quattro mozzarella al giorno che possano essere destinate ai poveri. Questo significherebbe che ogni caseificio potrebbe dare 120 mozzarella al mese e quindi per dieci giorni noi potremmo assicurare un piatto sicuro ai 120 poveri che afferiscono a questa Mensa. Ci sono altre iniziative che l'Associazione Ti Porta in Africa e Mente per aiutare i più bisognosi? Sicuramente, adesso abbiamo bussato le porte del cuore dei caseifici, però stiamo già pensando di coinvolgere tante persone di buona volontà sul nostro territorio, ad esempio perché no gli alberghi, perché non utilizzare quello che rimane per ogni cerimonia di matrimonio che viene fatto qui sul territorio di Capaccio Pestum, affinché i volontari della Mensa possano andare e prendere quello che nelle cucine avanza, il di più, che poi purtroppo può essere buttato. È una semplice azione, è un gesto semplice, ma che ci permetterà comunque di dar da mangiare a tanta gente che veramente è in grossa difficoltà. Le auguriamo che questo progetto possa realizzarsi con l'aiuto anche di tutte le aziende che parteciperanno. Auguri, buon lavoro. Grazie, auguri a voi.